È stato un grosso boato, pensavo che era il terremoto, invece dopo si è sentito un grosso, allora abbiamo pensato che era il tetto della chiesa. Il terremoto stavolta non c'entra. Se il tetto della chiesa di Santa Margherita Massignano è crollato è per colpa del degrado e delle infiltrazioni che si sono fatte largo nel tempo. Dallo scorso marzo la chiesa è chiusa e off-limits ai fedeli. Nelle ultime ore però il collasso della copertura che per fortuna non ha danneggiato i locali della vicina comunità terapeutica ma che ha allarmato i residenti della piccola frazione anconetana. Appena 70 anime che dopo essere rimaste orfane delle sante messe lo scorso luglio hanno scritto una lettera al comune ed ora tornano a chiedere di trovare un'alternativa. Finché la chiesa non riprenderà nessuna normale attività chiediamo che se ci dia l'autorizzazione perché poi le funzioni liturgiche possono essere svolte qui al centro sociale del paese. Ma in questo borgo dimenticato della periferia di Ancona dove si contano più case abbandonate che residenti. Il problema non è solo la chiesa chiusa con il tetto collassato ma il degrado e l'abbandono. Parola di chi qui ha scelto di venire ad abitare da Torino ma anche di chi ci è nato e cresciuto e a cui ora tocca rimboccarsi le maniche. Davanti alle case nostre in piazzetta ci si pulisce noi, noi 4-5 siamo rimaste, quel poco possiamo fare, se no siamo proprio abbandonati. Adesso la chiesa ma non è solo la chiesa, ci sono case che stanno crollando e non c'è niente, non ci sono servizi, non c'è nulla. C'è l'ex scuola qua che è in condizione peggiore, la strada, i vari fossi, alberi secchi, ne abbiamo una in piazzetta dove viene giù. Si rendono conto che comunque noi non stiamo ai confini di Ancona e siamo l'ultimo baluardo ma siamo comunque sicuramente una ricchezza da preservare e valorizzare.